Per noi è molto importante affermare la democrazia in questo Paese, che significa che il voto degli italiani deve contare. In questo momento non contempliamo assolutamente alcune ipotesi di governo tecnico, perché i governi tecnici, tra l'altro senza la fiducia del Parlamento, hanno già portato tanti problemi agli italiani. Due sono le cose. O si va al voto subito, senza temporeggiare, oppure si esplora ancora una volta il governo politico. Noi abbiamo un governo pronto, per quanto ci riguarda, che era il governo Conte, con una squadra di governo ben delineata, e che non è partito perché il Quirinale, su ministro, ha detto che non era d'accordo. Ora, se vogliamo andare al voto subito, noi siamo pronti. Se invece vogliamo provare a far partire questo governo politico, Movimento 5 Stelle Lega, cercando di trovare una soluzione al problema del ministro dell'Economia, noi siamo disponibili a patto che la persona individuata al ministro dell'Economia abbia la stessa caratura intellettuale, la stessa capacità anche di conoscenza e di contrattazione a livello europeo dei margini di bilancio. E l'altra è che il professor Savona deve restare nella squadra, in un altro luogo, in un altro posto da ministro, nella squadra di governo. Perché del professor Savona noi abbiamo grande stima e conosciamo le sue capacità.